Siamo un ente di formazione accreditato in Regione Lombardia, ci chiamiamo Omnia Language e siamo sul territorio da ormai 18 anni. Lavoriamo nella formazione specifica per il socio-sanitario, ma in particolare anche per le lingue e per il turismo. Abbiamo presentato un progetto in Regione Lombardia, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, sul turismo e in particolare sull'incoming sul lago di Como e in particolare nel lago di Lecco. Abbiamo coinvolto 10 disoccupati che avessero il desiderio di giocarsi delle proposte turistiche sul territorio. Devo dire che si è concluso con assoluto successo. Il gruppo degli studenti ha preparato e ha realizzato una app particolare di incoming che potrà essere usufruita su Facebook e su Messenger. Il turista arriva e potrà tranquillamente conoscere tutte le iniziative e tutto quello che in quel momento, in quel preciso istante, si sta realizzando sul territorio. Questo chatbot nasce da questo corso che abbiamo fatto in Omnia CFP. Abbiamo creato un assistente virtuale che va ad aiutare il turista che arriva a Lecco, in questo caso. Porto un esempio. Io qualche giorno fa sono andato con la famiglia in vacanza e subito dopo aver lasciato le mie valigie all'interno della mia stanza sono sceso, ho parlato con Lomino dell'albergo dicendo cosa posso vedere e dove posso andare. Ecco, questo è praticamente il nostro chatbot. È utilizzabile direttamente sulla pagina Google Echo, quindi andate su Facebook, cercate Google Echo, o altrimenti ci sono dei link che sempre trovate nella pagina o sul sito web.